E' già finito Buongiorno a tutti, noi siamo di Venezia, oggi giorno di carnevale ultimo giorno prima di martedì grasso, sarà finito tutto Va bene, andiamo a far vedere Venezia? Andiamo, vediamo, Venezia con carnavale Venezia con carnavale Ciao ragazzi, ciao a tutti, siamo in Venezia Sì, come tutti i mascherati Eh sì Siamo arrivati, siamo, buongiorno Buongiorno a tutti Ciò che succede in Venezia, oggi Amore, perché non sei mascherato? Oh, no, grazie Ma che grazie No, 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 grazie Grazie No, grazie No, grazie Grazie No, grazie No, grazie No, grazie L'unica cosa è che oggi c'è il sole No, grazie No, grazie No, grazie No, grazie Il salino Il salino non ce lo farei anche No Solo che è troppo fresco oggi No, perché è troppo fresco Preferisco altro dessert Vabbè No, vabbè Vabbè Io so leggere No No Non deve leggere No Leggo tutto Eh no Tu vuoi un caffè? No Prima mangiamo la pizza Dopo il caffè Pasticceria Qui abbiamo preso Ti ricordi? Pasticceria Dal Mas A me non è piaciuto Non ti è piaciuto? No Adesso non vuoi un'altra? No Adesso vorrei Cioccolatteria Solo non si vede Dio Anche 주고 Dio 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 No, è spesso. Cos'è da me che dire? Ciao. No, non ricordo già più. Pizze come noi abbiamo visto era da questa parte. Ricordati bene. E' molto carino. E' molto carino. Molto carino. E' molto carino. Allora, cosa c'è qua? No, non lo troviamo qua. Lo vorrei trovare in Alfa Pusco. Potete vedere i bigliettini vecchi? Sì, sì, certamente. No, non lo troviamo. No, non lo troviamo. No, non lo troviamo. Eeeh. Dammi un pezzettino a me, va? No. Andiamo. Eeeh Eeeh Ma sono sempre coi Eh sì Va bene Ma guarda Sì Eeeh 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 So, phu ogni tanto C'era Eeeh Eh Eeeh 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 Quanto c'è qua? Quanto c'è qua? Qualche minuto, cambio tecnico, e cominciamo. Aspettiamoci. Ah, che bella maschera. Ora io vado qua. In casa? Tu mi aspetta? Buongiorno. Buongiorno. Quanto? No, non si può fare. Quanto c'è? Era scritto anche la signora ha detto. Andiamo avanti? Ti aspetto. Avanti. 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 Buongiorno. 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 Grazie a tutti. Ehi, che odore. Hai sentito? Che odore, hai sentito? Eh sì, mi sembra che erano buoni quelli. 20 euro mi scendiamo. Ehi, che odore. Ehi, che odore. andiamo vai andiamo 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 Amore, perché tu non hai preso il capotto di Zoro? Eh no, vai, se non è un capotrano. No, tu dovessi prendere. Ok, cosa lì? E' gelato? Gelato? Do you want ice cream? No, gelato no, io vorrei un dessert, ma non gelato. Quale dessert? Sì, vogliamo al bagno. Va bene. Dai, andiamo. Oggi è molto vino. Eh? Oggi è molto vino. Eh sì, vento fresco, vento fresco. Eh sì, assolutamente sì. È chiaro che c'è Amorini. Eh sì, ma Amorini è sempre qui, sempre qui. Amorini. Aspetta, vai, andiamo. No, non c'è nessuno. No, non c'è nessuno. Pasticceria, no? No, non c'è nessuno. mamma mia che fila, che fila, oops, ecco prima tappo qui c'è prima tappo? eh sì, qui c'è prima tappo proprio e quando è andata a fare la sera di famiglia perché è più difficile con me, è più difficile con me sì, 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 sì sì, sì, sì sì, 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 sì sì, 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 sì sì, sì, sì sì, sì, sì sì, sì, sì sì, 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 sì visto che non posso fare sempre sempre una posta anghera amore dai mamma mia diavolo 9,90 eh, madonna eh, madonna eh, madonna vuoi vedere? no eh, non era prima qui, prima donna non mi ricordo non era, non era mi sembra di no mi sembra di no mi sembra era stato prima un campione europeo certo e ora sarà questa prima donna eh, certo assolutamente, sì come noi siamo tutti campioni di Europa eh sì eh sì ah 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 no no non è questo altro, altro ah questo mille astronauti arrivano ah 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eeeh, cibo. No, no, no.